eccoci qua ragazzi buongiorno e bentornati a spasso col tringa la macchina infernale in questo video si prepara la partita con la fiorentina ma parleremo tanto di alcuni giocatori romagnoli frankensy mino raiola zlatan ibrahimovic ragazzi tanti tanti discorsi e soprattutto una spiegazione molto importante su quello che si è quando si è tifosi vi spiego veramente quando si è tifosi ci si comporta in una certa maniera e soprattutto vi spiego quello che è il mercato fatto da delle società non quello che pensiamo possa essere il mercato è fatto da società non da ragazzini all'oratorio che si scambiano le figurine come tanti di voi pensano ve lo spiego nel video guardatelo tutto fino alla fine anche se è un po lungo perdeteci un po di tempo perché ragazzi questo è l'unico canale che vi spiega le cose come stanno la verità perché non abbiamo nessun interesse a portare gente a fare grandi proclami siamo i primi dei tifosi e come non ci piace essere presi per il culo dagli altri non prendiamo per il culo nessuno ve lo ripeto sempre noi siamo tifosi non siamo giornalisti non abbiamo nessun interesse a vendervi un prodotto chi ci guarda ci guarda chi non ci vuole vedere e preferisce la gente che ride tutto il giorno cazzi vostri quelle persone che ci guardano però sono molto importanti per noi e vogliamo dare un servizio serio dire le verità che gli altri non vi dicono vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero vai col video ciao per la c milano caricato non me lo so spiegare mandi fidato non me lo so spiegare batte forte mio corazzo sarà perché ti amo io grande amurale diavola le diavola le diavola le diavola le forza diavola le vivo solo per te io non ti lascerò sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai unico amore se non ti ho tradito mai eccoci qua ragazzi buongiorno e bentornati nella casa del diavolo a spasso col tringa nella macchina infernale il tring è sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tringa e doppio pollice per il diavolo in descrizione team maglie calcio cliccate sul link andate su instagram e parlate in privato con francesco codice sconto tringa per fare i vostri ordini pagamenti alla consegna ragazzi sta arrivando il periodo di natale adesso fra qualche giorno faremo un unboxing che mi sta arrivando della roba dicevo sta arrivando il periodo di natale se volete fare un regalo a qualche vostro amico a vostro papà vostro fratello vostra sorella vostro figlio ve lo consiglio assolutamente team maglie calcio vi ricordate quando sentite francesco di dare il mio codice sconto ovvero tringa e potete trovare tute magliette divise gadget di tutte le squadre le vostre squadre preferite italiane straniere tutto quello che cercate lo trovate su team maglie calcio la qualità è assolutamente di prima fascia non è roba cinese ve lo posso garantire non sono quelle cose che fanno vedere sugli altri canali cinesi cinesate che io uso per fare la polvere la differenza di qualità è impressionante ragazzi ho provato ad avere mi hanno mandato delle cose anche questi cinesi e la differenza è veramente non c'è paragone fra francesco e tutto quello che arriva dalla cina sempre in descrizione tringepic 2.0 l'alternativa il nuovo canale gestito da me e lo zio peter ci stiamo lavorando ragazzi ci stiamo lavorando il tempo è quello che è soprattutto questo canale ci porta via tanto tanto tempo ed è difficile fare video anche sull'altro fare video di un certo livello perché comunque c'è sempre da perderci tempo per non fare le cose se non si vogliono fare le cose tanto per fare ma bando alle ciance ragazzi andiamo subito a parlare del nostro milan e andiamo a parlare di qualche discorso già accennato ieri sera allora ieri sera abbiamo già iniziato a parlare dell'incontro che c'è stato con mino raiola ieri a casa milan la dirigenza si incontra col procuratore un procuratore che è parso molto molto rilassato all'uscita da casa milan è stato un incontro cordiale è stato un incontro molto tranquillo si è gettato le basi per un rinnovo di contratto sia per quanto riguarda alessio romagnoli ma anche per zlatan ibraimovic uno zlatan ibraimovic che sta dimostrando di essere in grandissima forma e di riuscire a sostenere tutte le partite sia del milan che della propria nazionale della nazionale svedese un ibra che è assolutamente ad altissimo livello un ibra che se viene gestito come sta facendo stefano pioli come stanno facendo lui stefano pioli ci può dare veramente quel qualcosa in più che potrebbe servire per portare a casa un trofeo in questa stagione soprattutto ragazzi quando andremo ad affrontare certe partite in champions league soprattutto quella con l'atletico il fatto di avere uno zlatan ibraimovic in più può essere veramente un upgrade per la nostra squadra io rimango sempre dell'opinione che se si va avanti in champions è giusto proseguire il cammino perché la champions è la champions sono di altra idea sull'europa league però poi alla fine se diciamo di essere una grande squadra dobbiamo comunque comunque lottare su più fronti anche perché il milan in europa league potrebbe addirittura provare a vincerla ma vediamo vediamo quello che sarà stavamo parlando dei rinnovi allora adesso romagnoli chiede 4 il milan offre 33 mezzo quindi ci si può incontrare il futuro di alessio romagnoli è sempre più a tinte rossonere continua 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 potrebbe continuare ad essere a tinte rossonere la vedete la differenza di mino raiola quando ha delle galline dalle uova d'oro tipo vedi vedi ziz donnarumma e altri giocatori che di fatto non possono più essere giocatori che fanno arricchire più di tanto il procuratore la differenza di comportamento di questo procuratore per gigio donnarumma ha fatto di tutto per portarlo via ieri sera non abbiamo parlato in live probabilmente ha fatto anche qualche sotterfugio senza informare né il suo assistito gigio né i dirigenti di milan e paris saint germain deve aver fatto tutto e le dichiarazioni di leonardo lo dimostrano aver fatto tutto direttamente con anche la ifi presidente del paris saint germain senza tener conto delle decisioni prese in precedenza da maldini e leonardo quindi questo fa capire veramente che tipo di personaggio è un sicuramente il miglior procuratore in circolazione perché un uomo capace di guadagnare tutti quei soldi e di poi far poi capire che la colpa non è mai sua ha una grande intelligenza questo è da riconoscere poi può non piacere come si comporta e non piace a nessuno come si comporta però è un dato di fatto che oggi fra i procuratori per quello che sono i procuratori oggi minoraiola è il numero uno e se si vogliono dei giocatori di un certo livello ve lo ripeto con minoraiola devi trattare che alla fine è quello che ha detto anche il milan noi trattiamo con tutti a prescindere dai problemi che ci sono stati in precedenza il milan deve trattare con tutti e le leggi del calcio dicono che un giocatore ha bisogno di un procuratore bisogna trattare con minoraiola e con minoraiola si tratterà smettiamo di dire che il milan non lavora con questo con quello il milan lavora con tutti tanto il milan ha il suo credo alla sua politica e quella rispetterà a prescindere da chi sarà il procuratore il milan ha i suoi parametri e i suoi parametri li rispetterà prima di tutto prima di tutti il milan discorso differente l'abbiamo già detto ieri sera ogni giorno cambia destinazione per frank si un giorno al palestin germain un giorno al tottenham un giorno al real madrid ragazzi la verità sta nel mezzo sicuramente frank si non continuerà ad essere un giocatore del milan ma perché non lo vuole lui perché lui ormai ha deciso di andarsene via dove andrà io penso e come detto ieri sera anche dallo zio peter ne abbiamo già parlato ieri sera io penso che se un giocatore debba scegliere 9 milioni del palestin germain 8 del tottenham allenato da antonio conte è vero che si stanno guardando i soldi e questa gente fa tutto per i soldi però poi la questione sportiva conta soprattutto per un giocatore dell'età di frank si quindi secondo me frank si alla fine finirà in inghilterra ma a noi interessa poco a noi interessa che frank si finché vestirà la maglia del milan giochi dia il 150 per cento anzi ancora di più in questo momento che deve comunque dimostrare di meritarsi un posto nel nostro milan allora ragazzi ho sentito tante dichiarazioni da parte di vari di vari personaggi ex giocatori ma quella che mi ha stupito di più è quella di adesso non mi ricordo comunque un ex giocatore della fiorentina che dice a il problema del milan potrebbe essere in difesa quando l'ho letto mi sono caduti gli occhi per non dire le palle il problema del milan è in difesa la seconda difesa del campionato con 11 gol subiti una delle difese più forti d'europa il problema del milan potrebbe essere in difesa non so che cazzo di campionato stai guardando e che squadre stai vedendo probabilmente ti stai riferendo al foggia visto che ha la stessa la maglia dello stesso colore a qualche squadra con la maglia rossonera perché che il milan abbia problemi in difesa mi sembra quantomeno per dirla alla francese una minchiata una minchiata mi sembra quantomeno una minchiata andiamo alla formazione che dovrebbe scendere in campo con la fiorentina alessio romagnoli torna ad allenarsi in gruppo quindi sarà in panchina contro la fiorentina quindi dovremmo vedere tatarusanu calulu kir tomori teo hernandez che si e ben naser questo sta provando pioli questo sta provando pioli poi ci sta anche tonali che si ben naser tonali tonali chi volete voi i tre che gireranno saranno loro attenzione all'opzione baccaio co perché baccaio co si sta allenando molto molto bene attenzione perché baccaio co anche lui visto che non l'abbiamo avuto per tutto questo periodo potrebbe essere un giocatore decisivo da qui ad arrivare alla fine questo milan ha la rosa lunga a differenza di quello che dite che il milan deve comprare questo comprare quello il milan può benissimo non comprare nessuno perché ha tutti i giocatori che servono per arrivare a fine stagione a centro campo cari miei ragazzi io capisco che voi siete affascinati da un giocatore coi capelli lunghi vi piacciono i giocatori mediaticamente forti per oggi renato sanchez al milan non serve a un cazzo renato sanchez oggi al milan non serve a niente fatevi il conto dei giocatori escono fuori notizie di rinnovi per tutti crunice rinnoverà fino a 2006 ben naser rinnoverà fino a 2026 sandor tonaglia un contratto lungo baccaio co è suo contratto ad lì tornerà arriverà pobega ci sarà la prossima stagione ragazzi quanti centrocampisti deve avere una squadra non può avere più di sei centrocampisti una squadra è vero che più siamo meglio è ma c'è sempre da considerare che renato sanchez ha un costo importante e se spendi 30 milioni per un giocatore poi probabilmente devi anche farlo giocare perché se non lo fai giocare capite che non ammortizzi il costo del giocatore i costi dei giocatori si ammortizzano perché portano dei risultati li fai giocare ma se oggi renato sanchez arrivasse al milan partirebbe uno scalino sotto che si ben naser sandro tonali e addirittura anche crunice perché oggi crunice ha dimostrato insieme a sandro tonali a inizio stagione di essere probabilmente una delle coppie più forti che abbiamo visto in questo inizio stagione quindi ragazzi io capisco tutto il vostro interesse nei confronti di giocatori mediatici ma meno male che il mercato non lo fate voi meno male stavamo dando la formazione a centrocampo dovremmo vedere che si e ben naser salvo altre decisioni nell'ultima ora di stefano pioli vedremo magari in campo tonali cambia poco comunque sono tutti i giocatori che potremmo vedere e nessuno si lamenta sulla tre quarti se le macchers braindiaz rebic con davanti girù quindi stefano pioli decide di giocarsela con l'atletico madrid stefano pioli decide comunque di dare tutto anche nella partita con l'atletico madrid perché comunque in campo vedremo zlatan vedremo leao vedremo probabilmente florenzi al posto di se le macchers buonissime notizie sul fronte magic mike mignon è uscito fuori un video il ritorno di mike mignon è imminente ragazzi ma comunque passerà ancora del tempo alla fine penso che queste nove partite passino si arriverà alla sosta di gennaio e poi mike mignon ritornerà anche perché come dicevamo ieri sera in live con lo portiere sono l'attrezzo di lavoro più importante quindi il portiere prima di tutto deve ritrovare la fisicità e la forza fisica nelle mani ma poi ricordatevi che un portiere para palloni a 150 all'ora quindi psicologicamente e mike mignon in questo è molto forte questo lo riconosco non sarà un grosso problema però probabilmente ci vorrà anche tempo per su questo lato sul lato psicologico il fatto di ritrovare il coraggio di mettere una mano infortunata uscita adesso da un infortuna mano operata su un pallone che va a 150 all'ora quindi progressi ce ne sono tanti mike mignon lavora già ogni tanto con la squadra quando deve giocare coi piedi quando deve fare certe cose lavora con gli altri portieri però di fatto ancora il polso non lo muove quindi ragazzi quando mi chiedete mike mignon potrebbe anticipare ragazzi delle operazioni le operazioni hanno un tempo di recupero minimo e quello che è stato dato per gennaio e il tempo di recupero minimo potrebbe magari allungarsi difficilmente si accorcerà molto difficilmente si accorcerà poi sapete come quando ci si fa male questo è una cosa di vita di tutti i giorni quando ci si fa male la parte psicologica importante perché se uno vuole guarire guarisce se uno invece ha paura guarisce molto più tardi questo è un po il discorso ragazzi incontreremo una fiorentina molto deficitaria perché gli mancherà parecchi mancheranno parecchi giocatori in difesa così come mancheranno parecchi giocatori nella partita di madrid contro l'atletico l'atletico l'escursione di grisma mancherà trippier mancherà joe felix e a firenze mancheranno tanti difensori ma attenzione ad abbassare la guardia sia per quanto riguarda i giocatori ma anche noi tifosi ve lo dico sempre non mi stancherò mai di ripetervelo l'ambiente lo creiamo noi durante la settimana sui social i social sono importantissimi perché sono lo specchio di quello che pensa il tifoso durante la settimana e ve lo ripeto ragazzi il vero tifoso parla di milan e segue il milan tutta la settimana non solo il giorno della partita non solo quando leggete il calciomercato nel titolo il milan lo si vive tutti i giorni anche una mezz'oretta 20 minuti al giorno ma cercate le notizie ascoltate certi video ascoltate le persone che hanno da dirvi qualcosa di concreto non guardate solo video di persone stupide che ridono tutto il giorno ragazzi una persona che ride tutto il giorno che cazzo avrà mai da raccontarvi perché è vero che la vita va presa col sorriso ma anche ridere tutti i giorni il sorriso sta sulla bocca degli stolti cioè vuol dire che uno che ride tutto il giorno è perché il gancazzo di pensare ok ragazzi quindi cercate di capire come si fanno i tifosi smettete di essere tifosi da bar diventate tifosi il milan lo si vive tutti i giorni questo non vuol dire che dovete guardare i miei video per forza però cercate di vivere il milan tutti i giorni e soprattutto ascoltate quando faccio dei video quando fa dei video quando parla lo zio peter perché io e lo zio peter a differenza di qualcuno di voi che parla per sentito dire viviamo di milan oggi youtube per me è una parte importante della giornata quindi per portarvi delle notizie ci lavoro parecchio non è che mi sono svegliato stamattina e ho detto va fammi sparare due cazzate prima di dire quello che vi ho detto ho fatto delle telefonate ho sentito delle persone che mi danno ho delle certezze quindi quando mi dite il milan potrebbe parlare con l'il per renato sanchez renato sanchez non costa 30 ragazzi a renato sanchez mancano quasi 18 mesi di contratto se lo vuoi prendere lo paghi 30 milioni 35 milioni e dai al lille quello che chiede il lille il il milan perché eliot ha una parte nella nel lille non ha nessuno sconto potrebbe avere come dicevamo ieri sera una corsia preferenziale qualora si presentasse milan e un'altra squadra con 30 milioni allora il milan il potrebbe dire sì il fondo elio fa parte della nostra proprietà quindi abbiamo il giocatore al milan ma l'unica forma di aiuto che può esserci nei confronti del milan perché ha eliot la proprietà eliot sia per una che per l'altra è quella nessuno fa sconti ragazzi ve l'ho già detto non si stanno scambiando figurine all'oratorio si stanno vendendo giocatori e dietro i giocatori ci sono delle società ok cercate sempre di capire questa cosa quando si parla di mercato e non di fare i piaccioni e i faciloni su queste cose perché il calcio mercato è una compra vendita fra due società due fra due multinazionali non fra due ragazzini che si scambiano le figurine ok questo è per farvi capire anche per cercare di introdurvi un pochettino a quello che è il calcio mercato ragazzi perché poi dopo fare le cose semplici si arriverà a quello si si può prendere ragazzi capite bene che non è proprio così il discorso niente ragazzi i discorsi di stamattina sono questi vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rosso nero ciao ragazzi a dopo A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.